E continuiamo a parlare della gazebata dello scorso fine settimana andando a sentire l'eurodeputato Lorenzo Fontana che ci racconta come è andata in Veneto. Sentiamolo. Sì, buonasera, un saluto a tutti i telespettatori. Il giornale in edicola domani mattina sarà un giornale particolarmente ricco. Ampio spazio sarà ovviamente dedicato al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è riunito ieri a Milano con il Ministro degli Interni Angelino Alfano, il Governatore di Regione Lombardia Roberto Maroni, il Presidente della Provincia e il Sindaco di Milano. Sul tavolo, dopo gli efferati episodi di cronaca che hanno riguardato Milano negli ultimi giorni, la promessa del Ministero di mandare in Regione Lombardia 140 nuovi agenti di pubblica sicurezza che assicura Alfano non saranno un palliativo temporaneo ma che rimarranno a disposizione di Regione Lombardia per sempre. Da parte sua il Governatore risponde mettendo a disposizione gli uffici della Regione per quelle che sono le sue possibilità, per quello che può fare per garantire sempre una maggior sicurezza lanciando due progetti. Un progetto di videosorveglianza della Regione Lombardia e un progetto che permetterà un approfondito e con costante monitoraggio degli appalti legati a Expo. Una promessa che il Governatore aveva fatto in campagna elettorale e che si appresta a diventare realtà. Altro servizio interessante è quello della Ministra Chienge che è venuta a Milano e che si è rifiutata a restringere la mano al capogruppo della Lega. Evidentemente il Ministro dell'Integrazione vuole integrarsi con tutti o con molti ma non con i leghisti. Da Fiera Milano partecipando a un incontro promosso dal Consorzio di tutela del Grana Padano, l'assessore regionale Fava lancia un allarme. Sono di 60 milioni il bilancio di quello che viene definito in termini l'Italian Sounding, cioè la vendita di quei prodotti che sembrano italiani ma che in realtà sono dei tarocchi. È preoccupante questo dato perché l'esportazione italiana ha un valore di 30 milioni e esattamente la metà di questo. In conclusione vorrei ricordare a tutti che sul nostro quotidiano trovate tutti i giorni la pubblicità di un'importante iniziativa lanciata dalla Lega Nord che ha messo a disposizione di tutti i tesserati Lega Nord 2012 dei soci militanti un abbonamento gratuito alla Padania. Sarà possibile usufruire di questo abbonamento cliccando sul sito www.lapadania.com nell'apposita sezione dedicata ai tesserati, inserire il proprio numero di tessera 2012, nome e cognome e fino a fine anno l'abbonamento al quotidiano lo paga la Lega.